Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi iniziamo il capitolo diciottesimo di Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, ne aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, poi disse tra sé anche se non temo Dio, non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente ad importunarmi. Il Signore soggiunse ascoltate ciò che dice il giudice disonesto e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui. Li farà forse aspettare a lungo. Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra. La grande domanda questa è, troverà la fede? Non troverà la religione, non troverà, non so, qualcuno che fa un sacco di cose, ecco, la troverà la fede. Perché è questa che salva, no? Quante volte abbiamo sentito Gesù dire la tua fede ti ha salvato. E questo Gesù se lo domanda all'interno appunto della necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Quel giudice disonesto non è Dio, Dio non è così. Ma cosa significhi che Dio risponde prontamente? Noi lo scopriamo solo attraverso la fede, attraverso la fiducia, altrimenti talvolta umanamente sembrerebbe appunto che Dio non ci ascolti, appunto non esaudisca i nostri bisogni, i nostri desideri, le nostre necessità. Ma come risponde Dio noi non lo sappiamo, ma continuiamo a pregare sempre senza stancarci mai. E questo non è che piega Dio alla nostra volontà, no? Ma questo, come dire, rende noi disponibili a fare la sua volontà, rende il nostro cuore disponibile a convertirsi sempre senza stancarsi mai. Insomma, la preghiera cambia a noi, non cambia Dio, no? E' per questo che dobbiamo pregare incessantemente senza stancarci mai. Perché incessantemente senza stancarci mai noi abbiamo bisogno di cambiare e di convertirci ogni giorno all'Evangelo. E questo non finirà mai fino alla pienezza. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri cito soprattutto due incontri. Uno con le segretarie della parrocchia, perché segretari e segretarie compiono un servizio molto molto importante. Sono la prima faccia che le persone che suonano il campanello trovano. E quindi sono la prima accoglienza. E questo è un ruolo molto molto importante. Si è vissuto appunto evangelicamente, ecco. L'altro sono il primo incontro dei ragazzi della terza media che sono venuti, con cui abbiamo fatto un'attività, abbiamo giocato, abbiamo cenato insieme, abbiamo fatto scoprire loro le tre strade che percorreremo quest'anno con loro. L'io, insomma, conoscenza di sé, la mondialità e la pace. E niente, mi è sembrato subito insomma un bel gruppo che dovremo in qualche modo, come il vasaio, no? Dovremo in qualche modo contribuire che questo gruppo e i simboli diventino ciò che sono. Una meraviglia. Ale, buona giornata a tutti voi.